Con Luigi Faccia, direttore della scuola sci, oggi 8 dicembre a Campo Imperatore. Com'è la situazione Luigi? Beh, purtroppo la neve è poca, nemmeno fa poi così freddo. Niente, siamo in attesa, anche se la settimana che si avvicina non è molto nevosa dal punto di vista delle precipitazioni. Le previsioni per le vacanze di Natale, si può sperare in un'apertura? Beh, certo, se come abbiamo visto le previsioni fino a domenica non è che siano un granché, domenica siamo già intorno al 14-15 dicembre, comincia a essere preoccupante, bisogna che nevichi almeno una settimana prima. Ecco, scuola sci, albergo e impianti, tutto a posto, cioè pronti per l'apertura, manca solo la neve? Ma sì, per quanto riguarda gli impianti, la scuola sci e il noleggio, tutto a posto, tutto a posto, tutto pronti a partire domani mattina.